Mese di agosto, questo è un documento filmato al quale siamo legati, è un documento che ci farà vedere una vittoria di Michele Bartoli e un commento, un commento del giornalista più popolare che ha avuto la RAI per tanti anni, Adriano De Zan, fu l'ultima telecronaca della vita di Adriano, il gran premio di Camaiore, di lì a pochi giorni si spense perché la malattia ormai stava avanzando inesorabile. De Zan commenta Bartoli a Camaiore, vediamo il filmato. Con il gruppo degli inseguitori, vale a dire Donati a 43 secondi, Casagrande con lo stesso ritardo, Belli a 57 secondi, Tonetti con lo stesso ritardo, poi Pinotti nono e Gianluca Valotti decimo. A tutti voi, gentili signore e signori, buonasera.